Salve a tutti belli e brutti, rieccoci in un nuovo video, l'argomento che discuteremo tutti insieme sono i social, ormai sono diventati un pericolo per gli adolescenti e non solo, sui social, dietro a un computer, un tablet, un telefonino, non puoi mai sapere chi si nasconde, i ragazzi e le ragazze di oggi passano ore davanti a un tablet, un telefonino, uno smartphone e questo non va bene assolutamente perché ci sono delle persone non buone, cercano persone deboli e loro ne approfittano. In questo caso mi rivolgo ai genitori, dovete essere più presente nella vita dei vostri figli, aiutarli negli studi, avere un dialogo, questo è molto molto importante. Poi succede che i ragazzi e le ragazze di oggi fanno qualche sciocchezza e questo bisogna assolutamente evitarlo. Troppo ne sentiamo tanti di giovani adolescenti che si uccidono. Quando vedete un vostro figlio o una vostra figlia strana che non si comporta normalmente, in quel caso dovete andare nella sua stanza. Cosa c'è che non va? Che è successo qualcosa? Perché su internet lo sappiamo, ci sono gli avvoltoi, è una rete e quando la rete degli avvoltoi pescano la loro preda è finita, non c'è nulla da fare in questo caso. Ho voluto dire la mia sui social, ma i social vengono usati anche per lavoro. E a fine qui mi sta anche bene, un social molto usato è Facebook per ritrovare vecchi amici di scuola, parenti lontani, in fine qui io sono d'accordissimo. Purtroppo ci sono gli avvoltoi su internet, quando la preda entra nella rete è finita. Per evitare tutto questo bisogna avere un dialogo con i giovani, per questo, occhi aperti, lo dico ai genitori, parlate di più con i vostri figli. Dimenticavo, iscrivetevi al canale e benvenuti a Manicomio, mettete un bello mi piace al video, condividiamo i video in coppie social, Facebook, Twitter e Instagram. Ci vedremo al prossimo video. Io vi voglio bene a tutti quanti, ciao a tutti.